Una statua di bronzo a grandezza naturale di Freddie Mercury, è l'omaggio di un fan sudcoreano che ha voluto onorare il suo idolo dei Queen sull'isola di Jeju in Corea del Sud. La musica del gruppo rock britannico è molto popolare in Corea del Sud, nonostante impazzi soprattutto il K-pop locale, ma Baek Son Yeob, 57 anni, uomo d'affari, ama i Queen da sempre. Li ascoltava con cassette pirata anche quando la loro musica negli anni 70 era stata vietata nel paese dal regime dell'allora dittatore Park Chung-hee, che la considerava inadatta. Durante la mia vita i testi e la musica dei Queen mi hanno sempre dato grande forza e mi hanno confortato e raccontato. Dopo otto anni per avere l'approvazione e ottenere i diritti, Baek ha commissionato la statua di 177 centimetri di Mercury che stringe il pugno, ora finalmente inaugurata sulla costa panoramica di Jeju. Un'altra sua statua è svizzera dove la rock star visse incise alcuni album, ma Baek Son Yeob voleva rendere felici anche i fan coreani. Nonostante i suoi sforzi però non sono mancate le critiche. Ho ricevuto telefonate che si lamentano del fatto che sto ammettendo la statua di un uomo sessuale, ha raccontato. Dico loro che è ora che la società accetti la diversità come l'identità di genere.